Il centro-destra con la modifica al testo unico sul commercio sta cercando di tornare a dare un'apertura ai nuovi centri commerciali. Per noi è qualcosa di grave, di pericoloso verso tutto il tessuto economico abruzzese ed è soprattutto una dimostrazione di come ci sia scarsa attenzione per le necessità del territorio e poca lungimiranza. Come consiglieri del Movimento 5 Stelle faremo ricorso a tutti gli strumenti a nostra disposizione per evitare questo scempio, proprio in un momento in cui gli abruzzesi invece stanno riscoprendo la validità e l'utilità di far ricorso al piccolo commerciante, al commerciante di vicinato. Un commerciante che realmente costituisce il tessuto economico delle città e che in molte realtà rappresenta anche un pezzo di storia cittadina. Per noi è qualcosa di inammissibile, non ci muoveremo di un centimetro, alla luce soprattutto dei dati che ci dicono ormai chiaramente da tempo come ogni posto di lavoro che si pensa di creare con l'apertura di un centro commerciale, in realtà se ne perdono sei nell'ambito del piccolo commercio, del commercio al dettaglio. È tutt'altro che un investimento sul territorio, anzi rischia soprattutto in un momento di difficoltà come questo di penalizzare ancora di più un comparto che sicuramente è in difficoltà. Noi saremo pronti a dare battaglia e non recederemo e speriamo che il centrodestra capisca l'errore che sta commettendo.